Sono Sergio Betanello, sono assessore del comune di Piazzola sul Brenta, rappresento oggi il comune di Piazzola che dal 1996 è iscritto ad avviso pubblico. Partecipiamo a questa giornata già da molti anni, partecipiamo in sintonia allo statuto di avviso pubblico. Per noi è molto importante esserci perché essendo così pochi dal Veneto ci sentiamo di rappresentare anche tutto il Veneto che oggi conta solo 6 comuni iscritti ad avviso pubblico. Speriamo che questa nostra iniziativa insieme ad altri portino ad iscriversi ad avviso pubblico almeno altri comuni, così di creare un largo consenso a queste iniziative che sono la base civica per il vivere tra le persone civiche.